Come risolvere così l'errore riguardo al driver grafico di Nvidia, quindi in questo caso puoi risolvere il problema disinstallando prima il vecchio driver grafico, facendo così un'installazione completa del nuovo. Quindi andiamo un attimo su applicazioni, quindi installazione, applicazioni, scrivi qua sopra Nvidia ed ecco qua Nvidia driver grafico, ovviamente questa è la versione 561.09 e questo invece è il vecchio driver 472.47. Tu disinstalla direttamente il vecchio driver grafico, devi aspettare un bel po' per disinstallarlo, quindi non fare nulla, aspetta che completi così il caricamento e poi riavvia il sistema. Una volta fatto hai la scheda grafica, quindi hai il computer senza questo driver grafico e ora possiamo installarlo completamente. Andiamo un attimo sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione ed eccolo qua. Qua scarichi perfettamente un driver per la tua scheda grafica Nvidia, vado a prendere la mia scheda grafica GeForce, metto la serie 30 e prendo così la scheda grafica 30 e 70. Windows 11 o Windows 10, lingua italiana e facciamo trova. Driver Nvidia Studio, questo qua è per chi usa il computer per lavorare e questo qua invece per i giocatori, driver GeForce, game ready. Vai su vedi. Versione driver, questa qua, risale all'11 settembre 2024, facciamo download. Una volta fatto, eccolo qua, ci clicchiamo sopra. Facciamo sì. Dobbiamo estrarre così il pacchetto della versione 561.09 che io lo tengo già installato e faccio ok. Ovviamente questo programmino qua, questo software ti dirà anche di installare un'applicazione a parte, così facendo aggiornerai sempre la tua scheda grafica, tu non installare il GeForce Experience perché è meglio Nvidia App. Quindi dopo che hai installato questo driver grafico ti consiglio di installare poi Nvidia App, che sarebbe questo qua. Ora, questo è il driver grafico, verifica così il sistema. Accettiamo e continuiamo, poi dopo se vi dice di fare una pulizia completa dell'installazione, tu fai clicca su quella spunta pulizia completa dell'installazione, proprio qua sotto c'è scritto dopo su opzioni, e installa così il driver grafico. Poi devi aspettare un bel po' e devi riavviare il tuo sistema operativo e lo riavvii. Poi come ho detto, se vi dice di installare un'applicazione che si chiama GeForce Experience, non installarla, installa direttamente questo programmino Nvidia App che è molto meglio. Che è l'ultima versione, questa è un'applicazione più recente che hanno rilasciato Nvidia ed è molto meglio, su driver ed eccoli qua. Io cerco i driver da aggiornare sulla mia scheda, Drive Game Ready e per ora non c'è nessun aggiornamento da fare. Quindi tu installa il driver grafico, così non ti uscirà più l'errore riguardo a questa versione vecchia del driver grafico di Nvidia. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!